Figli miei sin dall'inizio sono stati i bambini, hanno dato potere lo squartatore di Trevisa. Ecco come li chiamavano. Lo regno del terror fu il gennaio, le tozzine di bambini sono caduti sotto le mie lave, poi i genitori di Trevisa mi vennero a cercare. E si fecero giustizia con le loro mani. Da vivo ero stato un po' cattivo, ma quando mi uccisero divenne molto, molto peggio. Ero colui che appariva negli incubi. I bambini avevano di nuovo paura di me. E la loro paura mi dava impotente, invaderino lo sogni, invaderino lo sogni. Ed è stato un luogo. Il diventimento è iniziato veramente. 5 anni scoprirono un modo per dimenticarsi di me, per cancellarmi completamente. E essere morto non è un problema. Ma essere dimenticato quello sì, cazzo! E' soltanto un salvo! Non posso tornare se nessuno si ricorda di me! Non posso tornare se nessuno ha paura di me! Ho dovuto cercare anche nei meandri dell'inferno. Ma alla fine ho trovato qualcuno. E questo qualcuno ravviverà il mio ricordo! Lascerò che sia lui ad uccidere, ma la gloria sarà mia! E quella paura sarà il mio biglietto di ritorno! Che!